Un ragazzo di 21 anni sarebbe rimasto incastrato sotto omuletto, riportando alcune fratture agli arti inferiori. L'incidente si è verificato nella mattina di mercoledì 23 marzo intorno alle 10 nell'area di parcheggio dei cantieri navali danese Yachting Service di Brindisi in via Arizzo. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in codice rosso presso il perrino di Brindisi, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il giovane non sarebbe grave e la frattura riguarderebbe particolarmente la gamba sinistra. L'incidente si è verificato durante lo svolgimento di un corso di formazione trasporto navale dell'ITS Logistica Puglia, con sede legale a Taranto e sede distaccata di Brindisi. In particolare, lo studente praticante di San Michele Salentino, durante una manovra di guida di un muletto di proprietà della danese Yacht, condotto da altro praticante classe 91, sarebbe stato investito agli arti inferiori rimasti incastrati sotto lo stesso. I vigili del fuoco presenti sul posto per le altre attività hanno liberato il ragazzo unitamente agli operai della danese. Il giovane poi è stato affidato alle cure del personale del 118, sotto shock il suo compagno di lavoro. Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale di Brindisi hanno anche provveduto all'alertare responsabile dello special dell'ASL di Brindisi.